Grazie Presidente e grazie Assessore per essere rimasta con noi. Parto dalla parte dispositiva. Qua chiediamo un impegno al Presidente della Giunta perché faccio altre cose. Ad attivarsi rapidamente nei confronti del Governo nazionale affinché si giunga ad un potenziamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, oggi incompleta e deficitaria, così da avere uno strumento in grado di fotografare l'immagine realistica della situazione dell'edilizia nelle scuole italiane. Io stesso ho fatto dei sopralluoghi nel Valdano, l'Unigiana, in altre zone e la situazione è disastrosa. Il secondo punto è l'impegno a promuovere di intesa con gli enti e le autorità competenti un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché un piano di costruzione e completamento degli edifici scolastici, al fine di adeguare le strutture in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed efficientamento energetico, garantendo anche l'adeguamento delle vigenti classificazioni sismiche. Ricordo che da un dato che abbiamo reperito, mi sembra, cito il dato, la fonte ministero dell'istituzione ecosistema scuola 2013, rapporto di lega ambiente, il 60% degli edifici scolastici è costruito prima del 74, prima quindi dell'entrata in vigore della norma antisismica, e il 40% di tutte le scuole sono prive del certificato di agibilità. E l'ultimo punto è a sollecitare il Governo nazionale affinché in tempi rapidissimi si giunga allo stanziamento dei fondi necessari per garantire la realizzazione di tutti i 525 interventi di edilizia scolastica segnati in Toscana, per un totale di 307 milioni di euro, perché ad oggi sono stati stanziati solo 55 milioni su 307, e quando andremo noi al Governo sicuramente agiremo secondo queste priorità, che secondo noi sono le vere priorità del Paese. Grazie